Il campionetto è costosissimo! Non far finta, mangia! Il campionetto è anticrisi! La mia musa! Mi fezzano tutta l'Italia! Eserciziamo la crisi! E lei è un esperto di questo! Sono un esperto! Non deve aver ripreso mentre mangia! Ma per carità! Ma come non mangia mai? E se tu fai questa cosa! Vieni! Vieni! Al senato sai? Ma coi grillini come ti metterai? E' come le usano i francesi! Chiamo i cittadini invece che a loro e poi diamo l'accordo! La mia vita senza te! O che tu mi bacerai? O che tu mi bacerai? Ma non parti! Non parlo! Non parlo! Non decolla! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Sì, sì, sì! Ho preso da te perché io ti voglio bene! E' un po' austriaco come bacio a mano! Ehi, vai! Uno, due, tre! E' un taglio dei capelli e i trucci di uomo! Non fai fotografia all'orecchino! Non so guardare! Anch'io voglio guardare! E' come se si vede! Perché ormai voglio diventare un cineasta! Quando? E course! Sì! Sì!